Cancelli aperti sulla storia fino al 4 ottobre. Il Museo Batteria Vettor Pisani per il quarto anno di fila riprende sul ruolo di valorizzazione della via dei forti tra Cavallino e Treporti. A un passo dalla Laguna Nord, lungo i 13 chilometri di litorale, sono presenti 200 fortificazioni fra torri telematiche, batterie, bunker, polveriere, caserme e rifugi. Queste fortificazioni hanno espresso in altri tempi un qualcosa di che così, non vogliamo che si ripeta più e devono essere un monumento, sì di ricordo, ma anche una seconda vita che rappresenti un po' quello che si è stato, ma quello che sarà e quindi con delle mostre, perché non dobbiamo dimenticare la nostra storia, ma deve essere vista e trasferita, specialmente alle nuove generazioni, sotto un certo punto di vista, non cruento, non brutto, ma un qualcosa, non dico di bello perché non lo possiamo dire, però qualcosa di palpabile, capire quello che è stata anche la nostra storia. Dopo i mesi di lockdown e il timore di dover interrompere anche questa preziosa esperienza, con questo fine settimana sono stati riaperti ufficialmente i cancelli al pubblico, sottostando alle indicazioni delle linee ministeriali e regionali legate ai protocolli del Covid-19. Ma in batteria Pisani sono previsti anche due concerti e le visite organizzate presso batteria Amalfi, tanto apprezzate negli scorsi anni da migliaia di turisti. Abbiamo avuto oltre 8.000 entrate, oltre 8.000 presenze qua dentro. Ricordo che il 43% sono stati italiani, un 40% i tedeschi e poi il resto per arrivare al 100% stranieri comunque. Il grosso, oltre il 50% le famiglie, quindi a dimostrazione del fatto che le famiglie vengono qua con i loro ragazzi, con i loro figli per visitare questo monumento, per spiegare ai loro ragazzi, quello che è stata un po' in passato anche la loro storia, la storia dei loro nonni, che magari la mia generazione ha ancora vivo il racconto di qualche nonno. I ragazzini piccoli questi racconti non li sentono più e quindi è bene che abbiano un pochino un approccio.